Questo è un campionato che mi sta assolutamente a mente, il Monza ha perso cinque partite con cinque grandi, ha fino ad oggi vinto pareggiato con le altre, quindi è tutto perfetto, abbiamo giocato una buona partita. Il Milan evidentemente ha individualità di un certo tipo e va bene così. Comunque quello che piace a me del Monza è che cerca sempre di giocare, lo dico anche il nostro grande allenatore, quando attacchiamo, attacchiamo il 5-6 quindi abbiamo avuto qualche occasione, il Milan l'ha risolta con giocate di grandi campioni, va bene, tutto qua. Crede che arriverà qualche colpo dal mercato? No ma che colpi ragazzi, stiamo calmi con il mercato, poi il mercato di gennaio è un mercato asfittico. Non ho mai parlato con nessuno, mai parlato con nessuno, in ogni caso non partirebbero, ma non è, siccome ogni giorno leggo quello lì, quello lì è prenotato, quell'altro è spremotato, quell'altra cosa, nessuno è prenotato, nessuno ha parlato, sono giocatore del Monza, Monza resta. Ciao. Ciao.